Questo per noi deve essere un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo l'ambizione di voler lottare per traguardi importanti, anche perché penso che chi fa l'allenatore o chi gioca per una squadra come l'Inter, vista la storia, l'ambizione minima deve essere comunque di puntare sempre al massimo traguardo. A volte ci si riesce, a volte meno, però penso che questo non lo stiamo facendo dall'anno scorso. L'obiettivo è rendere comunque orgogliosi i nostri tifosi, dando tutto il campo. Cristian nell'esperienza precedente ha giocato in diversi ruoli, sia da trequartista che da interno. A volte ha giocato anche durante la partita come secondo centrocampista. Come ho detto in passato, secondo me Cristian ci ha voluto un po' più di tempo per ambientarsi, per capire anche il calcio italiano, perché il calcio italiano non è semplice, perché è un calcio molto tattico, dove ci sono due fasi, dove bisogna essere molto attenti, sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. È entrato dentro anche proprio nel discorso della mentalità italiana, inizia a capire bene l'italiano. Questi sono tutti i step di crescita che lui sta facendo, che è inevitabile poi ci siano dei benefici in campo. Per me il fatto di avere la possibilità di contare su un altro giocatore, su Cristian, nelle scelte, sicuramente mi lascia un po' più sereno. Con Ivan abbiamo dovuto lavorare, abbiamo dovuto lavorare con pazienza certosina, anche perché non dimentichiamo che lui nasce esterno d'attacco. Complimenti a lui, perché anche lui è venuto quest'anno con grande umiltà, con grande voglia di mettersi a disposizione, con grande voglia di mettersi a disposizione e di giocare per questi colori. Sta facendo molto bene, è un ragazzo che secondo me ha delle qualità importanti, perché ha delle qualità fisiche impressionanti, oltre a qualità tecniche, a destra o sinistra. Secondo me deve credere di più in se stesso, perché lui avrebbe tutto per fare grandi cose in questo ruolo. Anche qui avere un'opzione in più, oltre a Young, a Darmian e a Dakimi, sicuramente in questo momento iniziamo a essere un po' più tranquillo, un po' più a respirare.